Allora, Bettino Craxi è stato un profeta, un profeta su tutto, su quello che sarebbe successo in Italia dopo che è stato mandato ingiustamente in esilio, che senza i socialisti, i liberal socialisti, senza il nuovo PSI, il garofano rosso, l'Italia non si sarebbe ripresa. Chi è venuto adesso a governare l'Italia? Che è stato chiamato? Un uomo della Prima Repubblica. È stato chiamato un uomo che era il collaboratore dei presidenti del Consiglio di Bettino Craxi, di Andreotti della Prima Repubblica per riportare l'Italia. E Bettino Craxi ha detto che verrà un giorno che i magistrati si aristeranno fra di loro e l'Europa sarà a matrigna. Questa è stata la profezia di Bettino Craxi che senza i socialisti non si può riprendere l'Italia. Il debito pubblico era il 80%, adesso il 160%, la disoccupazione è alle stelle e quindi c'è bisogno del garofano rosso, di chi come sottoscritto il segretario del nuovo PSI, dei liberal socialisti, nuovo PSI del garofano rosso, che si deve riorganizzare. Ci stiamo riorganizzando, abbiamo bisogno di tutti voi, con il presidente del partito Stefano Caldoro che è già governatore della campagna, stiamo in tutta Italia organizzandolo, Antonino Di Trapani responsabile dell'organizzazione, adesso abbiamo anche Enzo Landi, un mio conterraneo che ci darà una mano, abbiamo le macro regioni e faremo un partito in tutte le regioni, in tutte le province e in tutti i comuni. Quindi è un appello che io sto facendo a tutti coloro capaci di intendere e di volere anticomunisti, a prescindere, senza questo, non è negoziabile questo, con i comunisti non si va da nessuna parte. Quindi chi ha una cultura socialista riformista, anticomunista, i 5 stelle sono comunisti, l'hanno dimostrato ampiamente, non abbiamo bisogno di comici, abbiamo bisogno di persone serie, che non schifano gli italiani come fa il fondatore di 5 stelle che si mette lo scafandro da palombaro quando si presenta gli italiani, da tanto che li schifa. Noi abbiamo bisogno di tutti quanti voi per riorganizzarci, per riportare la scala elettorale, il garofano rosso e per portarlo a una percentuale a 2 cifre, e perché no a 3 cifre al 100% e lavoriamo per questo obiettivo con tutti quanti voi in tutte le realtà comunali di tutti gli 8 mila comuni italiani. Noi viveremo a cercare uno per uno e vi chiederemo di aiutarci a risollevare l'Italia dal baratro in cui è caduta. Bettino Cracchi è stato un profeta nel suo ricordo e nel suo nome, vi invito ad iscrivervi al Partito Socialista Nuovo PSI, i Liberali Socialisti.